Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Mimim Manzo, il muratore di Prata Principato Ultra, in Irpinia, di cui si persero le tracce la sera dell'8 gennaio 2021, mentre a casa sua la figlia Romina festeggiava il compleanno. La famiglia continua a chiedere che si faccia luce su questo mistero e in occasione dell'anniversario della scomparsa hanno portato un fascio di fiori nella cappelletta dove è stato visto l'ultima volta in paese, tra l'incrocio della stazione ferroviaria e la basilica dell'annunziata. Noi non possiamo vivere così, non ci possiamo portare un fiore perché non sappiamo dove sta, non sappiamo se è vivo, non sappiamo se è morto. Io credo che ognuno di noi quando muore ha bisogno di essere sepolto, di fare un funerale e lui questo non ha potuto riceverlo. Perché ci hanno fatto fare questa fine? Perché un buon acione, un credulone è quello che ci ruote di più a noi. Almeno abbiate la pietà, la misericordia, chi ci ha fatto del male, non lo voglio nemmeno sapere. Fateci trovare le ossa, se ci sono ancora le ossa. La figlia Romina, indagata per la scomparsa del papà, si dice pronta ad affrontare anche un processo. Che non smettono di fare ricerche, che non smettono di andare avanti e anche di fare il processo se c'è bisogno. Anche senza il corpo io credo che debbano farlo. Io dirò sempre quello che ho detto, che io non c'entro niente e mi va bene che ci sarò anche io al processo.